Torniamo nel qua ed ora e vediamo che collegamento c'è tra peso e forma. Hai fatto caso che correndo, saltando, facendo tanto sforzo fisico ti affatichi? E invece quando crei un sistema, perché un programma così short, così concreto e concentrato, e specialmente sul posto? Perché è corrispettivo al tuo modello di corpo energetico? Io posso raggiungere straordinari risultati, come è la E-Line, io parlo di te E-Line, del tuo corpo, della tua personalità con quest'anima, quando creo un sistema ben definito, dal A al B, con un tempo ben specifico, dove non fare e tra l'altro variegare, stessi esercizi mi creano noia, mi annoio, mi dimotiva. Ciò che crea varietà e specialmente una scadenza breve e esercizi sul posto, A ti portano a raggiungere effetti, risultati straordinari, B sei sempre carica motivata, C riesci a comunicare e a invogliare gli altri a volere la stessa cosa, di non perdi l'energia, al contrario, la rinnovi, perché il tuo rinnovamento è graduale, più fai affaticamento, salti, corea, più ti stanchi, esaurisci la parte energetica. Questo si vede solamente dalla tua data, giorno di nascita. Se io analizzo anche il ritmo e analizzo in che contesto, con chi e dove, lì si apre il mondo. Questo perché lo dico? Perché le persone che ci ascoltano possono capire che sì, io posso saltare, correre più, corro più ho risultati, meno corro il lavoro sul posto, più ho risultati. Cioè dipende dal tuo tipo fisico, psicologico, emotivo, energetico, che si racchiude nella tua data di nascita, nome, giorno e anno. Se io rispetto ciò che sono, come sono e cosa sono venuta a fare, io facilmente perdo il peso, io facilmente raggiungo il mio peso forma, e facilmente e allo stesso tempo con gioia, con voglia di poter rifare e rifare e divulgare. Poi ognuno trova il suo. Anche qua il 2, che è presente in diverse posizioni, parla di che cosa? Insieme e soprattutto tutta da te, tu vai benissimo, sia come lavoro individuale, come i tuoi coach, i clienti, che di gruppo, ma mini gruppo, perché tu devi conoscere ciascuno. Ci sono anime che sono venuti a sperimentare mega gruppi, tu stai bene e realizzi bene e hai successo, quando crei mini, ma molti gruppi, ma mini gruppi, dove ciascuno conosce te, ciascuno ha possibilità di interagire con te, e tu conosci ciascuno e parli con ciascuno. Questo è il tuo modello. Se tu fai correttamente... E' proprio io godo quando sono in un gruppo dove riesco a interagire, a capire loro cosa hanno bisogno, come posso aiutarli. Io godo. Mi rendo conto che è proprio così, questa cosa mi dà energia, mi rinnova. Ed è proprio questo che io faccio. Faccio i miei gruppetti di allievi, li sto dietro. Stamattina ho sentito una delle mie allievi, l'ho seguita, li ho aiutato a definire gli orari di allenamento. E poi ho un altro gruppo che sta lavorando di qua, c'è proprio una goduria. Per cui qui ci hai azzeccato veramente in pieno. Questa sono io. Bellissimo. E siccome tu offri servizi individuali, tu e tu, e servizi di gruppo, anche qua è importante capire e sapere la propria data di nascita e che cosa raccontano i miei numeri di me. Perché se io vedo dalla mia data di nascita che io, Tatiana, riesco a raggiungere... Ciao Tatiana! Io riesco a raggiungere risultati efficaci, prima, estraordinari, lavorando solo con te, io investo, trovo del denaro, la risorsa principale per fare scambio. Io ti do il denaro, tu mi dai conoscenza, supporto. Quindi se io lavoro meglio, quando sono solo io e tu, e dal numero di nascita, la data di nascita, dice, parla esattamente di questo, io raggiungo molto prima risultati straordinari, peso, forma, la motivazione, la carica giusta. Se invece il mio numero dice, no Tatiana, vai nel gruppo, dove c'è spirito di squadra, di gruppo, lì ti carichi, lì ti motivi, anche in quel momento che è umano, andare su emotivamente, giù, grazie per i coricini, su e giù, e in quel momento l'energia del gruppo ti aiuterà a oltrepassare, a superare quei momenti di affaticamento emotivo, di motivazione. Ecco perché è importante conoscersi e capire che cosa dicono i miei numeri, perché questi modelli lavorano in tutti i settori. Se io vado bene per le squadre, per i gruppi, io faccio sì sport in gruppo, lavoro al di squadra in gruppo, viaggio e vado in vacanza in gruppo, mi formo in mini gruppi, per poter raggiungere i miei obiettivi, per raggiungere il mio peso e forma. E questo è racchiuso, e questo è già scritto nella data di nascita di ciascuno di noi. Ah, wow, 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 madonna mia, questa qui è una roba incredibile. È proprio vero che l'universo non c'è niente buttato lì a caso, niente, è proprio una cosa incredibile. Quindi in base alla mia data di nascita io riesco a capire se mi viene meglio un lavoro di gruppo, se mi viene meglio un lavoro di compagnia. E tu mi stai dicendo che siccome nella mia data di nascita, cioè il 2, che è il 2 settembre, io vado bene con i gruppi e con il one-to-one. Exatto. Exatto.